E così, alla fine ce l'hai fatta. Dopo anni, sei finalmente riuscito a portarla fuori a cena. Guarda che bel panorama da quassù, Mariolina. Anche se la cosa più bella sei tu. Tutto sembrava andare per il meglio, ma proprio quando pensavi di aver trovato finalmente l'anima gemella, hai scoperto che era complottista. Cosa c'è messo dentro? Malordo! Ti senti smarrito? Non sai bene cosa fare? Perché la dea a cui stai facendo il piedino da 50 minuti buoni ha iniziato a raccontarti di come i potenti ci controllino e senti che le vostre anime non vibrano più alla stessa frequenza. E adesso come faccio a portare a termine la mia missione? Il canale di Gross presenta... Dieci frasi da non dire per rimorchiare una complottista. Ho una sorpresa per te. Ho affittato un aereo per disegnare in cielo un cuore per te. Allora? Prossima volta a pizza? Con lo scomposticino segreto... Pedopilo! Ah! Ah cacchio, è che non lo trovo con tanti. Mi sa che mi si è smagnetizzato il chip. Paghi tu? La Terra sarà pure piatta, ma tu c'hai due pianeti che si vedono ad occhio nudo. Magliare! E niente, ho una disfunzione rettile. Senti, so che la serata non è iniziata nel migliore dei modi, ma... Non potremmo ricominciare? Resettiamo? Niente. Il wifi non va. Vabbè, tanto c'ho il 5G. Ma ti sei fatta male quando sei atterrata sulla luna? Ah, quindi fai anche le foto. Io, io Nikonista, Nikon tutta la vita, no? Io odio Canon. Questa è bruttissima. Eh, al momento sono un po' in difficoltà... Cioè, nel senso, lavoro nel marketing, nel PR... Sì, insomma, lavoro in un'azienda con lo schema piramidale. Sì, insomma, lavoro in un'azienda con lo schema piramidale.